sì però tanto salutiamo tutti siamo in live ciao ragazzi siamo qui per le nomination aspetta che mi sento due volte perché avevo la live aperta ok siamo qui appunto per le nomination dei dei game awards e le previsioni quali sono le previsioni vostre ragazzi intanto presento kenzo dalla locanda rizzo aristofano ante se ne sai che sono in condivisione sono comunione dei beni poi quando eventualmente comunione dei bivoli che rispartiremo no e niente quali sono le vostre previsioni per le nomination di oggi ragazzi iniziate voi che finisco con gli spam ma sul gruppo lo fissi in alto il messaggio sì tanto magari metto la storia su instagram io io mi aspetto una predominanza allucinante di trasto base in ogni categoria possibile in immaginabile io ta 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 io oggi hanno messo appunto in come si chiamano i sondaggi e mi è uscito effettivamente un gioco che mi ero anche scordato ma mia colpa che è ecco me lo sto scordando anche adesso dai ragazzi quello che per la switch che si si farma tutto animal crossing ho fatto un po stagio che mi puzza proprio di è ragazzi qua secondo me secondo me animal crossing fa incetta perché comunque ha dominato ha dominato una gran parte di questa stagione videoludica perché praticamente il primo periodo c'è il periodo del primo lockdown si poi veramente lì ci ha avuto anche tra virgolette la fortuna di di uscire in un periodo dove cioè non potevi fare altro che quello quindi sì 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 quello vince sicuramente il miglior family game è un'altra cosa certe che tutti i candidati del miglior family game saranno giochi nintendo sì beh senso anche beh però la sopra stop 2 parla abbastanza di famiglia eh cioè in maniera un po' moderna però sì e beh vuoi mettere per la stava sparte 2 dobbiamo fare davvero previsioni su quale categoria non su quale categoria non non ci entrerai diciamo non fai scusa sensei di la tua bella no seca no no seca no al meglio va ah non si è aggiornata la notifica di twitch e invece come non si è aggiornata lo è impossibile l'ho modificata a tutte le parti ciao one e two twitch che fa i capricci come sempre ma incredibile ho passato un'ora io a fare per chi ha visto solo la notifica stiamo giocando a one piece per playstation 2 vabbè c'è ora io non ho parole dimmi cosa devo modificare eh a me non è neanche arrivata la notifica a me è arrivata da poco ma io ho modificato la descrizione prima su twitch da sola poi ho modificato ho fatto una nuova stanza qua niente vabbè ciao okusai okusai che bello salve simonaro il fanta one piece sarà in nomination no perché ha già vinto ha già vinto sì e noi invece un'altra cosa secondo me molto interessante vi aspettate annunci extra nomination gira il rumor di resident hill di selenthiel solo che non lo so secondo me li avrebbero un po' pompati di più se avessero avuto qualcosa di pesante sì quello è vero c'è da dire anche che nel mondo dei videogiochi ultimamente non è che abbiano azzeccato molto le comunicazioni quindi cioè a partire dall xbox che è uscita senza nemmeno un annuncio però ma pure la playstation è sì 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 all'ultimo non si sapeva se fosse retrocompatibile cioè se fosse veramente retrocompatibile o no iniziamo 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 vai questo era il mondo prima del covid ed è già un videogioco a vedere caro jeff ma è già iniziato ok sì 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 dai Grazie a tutti 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 E' Grazie a tutti Quelli che Grazie a tutti Grazie a tutti Lo tengono E E' E... Grazie a tutti 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 Io Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Donnie Grazie a tutti 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 Bici Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti